Buongiorno e vittorie nel nome di Gesù. Siamo qui in questa meravigliosa giornata, per aumentare il nostro livello spirituale, in maniera molto semplice, cercheremo di pregare Dio, per iniziare il giorno con Lui. Parliamo con il nostro Signore, al fine di migliorare la nostra relazione, e questa preghiera è perfetta per questo, perché, iniziare parlando con Dio, costruisce la nostra fede, mettendo le fondamenta, nel Signore dei Signori. Lui vede le nostre azioni, e aprire la bocca al mattino, per Lui e per lodarlo, significa dargli la primizia delle nostre parole. Siamo pronti per questa colazione spirituale. Chiudi gli occhi se vuoi, e ripeti dopo di me. Signore buongiorno nel nome di Gesù. Questa mattina ti onoro, con le primizie della mia bocca. Tu le meriti più di tutti, Padre, e proprio per questo, entro nella Tua santa presenza, nel Tuo amore, nella Tua serenità e tranquillità. Mi sento amato quando parlo con Te, soltanto al pensarti la mia situazione cambia. Mi sento più leggero e più sereno, grazie Signore, per queste emozioni che mi dai, ogni volta che il mio cuore tocca la Tua presenza. Prima di arrivare alla richiesta di oggi, vorrei ringraziarti per la sapienza che ci dai, attraverso la Bibbia, e attraverso lo Spirito Santo che mandi, ad ammaestrarci e educarci a fare tutto bene. Perdona ogni nostro peccato, te lo chiediamo nel nome di Gesù, rendici bianchi come la neve, oggi, puri come i bambini, con un cuore adatto al Tuo lavoro, al Tuo amore e alla tua felicità. Signore oggi la mia richiesta è particolare, Tu sai bene che non sono perfetto, chi meglio di te lo sa. Se ho qualcosa contro un mio fratello, con un mio amico, con un conoscente, con un familiare o con Te, Signore ti prego scusami, porta la Tua pace nelle mie relazioni, nella mia famiglia, e se il mio coniuge ha fatto qualcosa a me, dammi la forza di perdonarlo, così che ci sia pace in casa, e se ci sono bambini in mezzo, non permettere che soffrano, perché loro sono la luce del mondo, loro sono il nostro futuro, e Ti prego Signore porta pace nei loro e nostri cuori così da poter essere più, simili a Te, in emozioni e in situazioni, al Tuo cuore parliamo, Padre nostro, nel nome di Gesù, credo che Tu farai avvenire un segno, mi aiuterai a fare pace con quelle persone, che purtroppo hanno causato, brutti periodi nella mia vita, ma io ho bisogno di perdonare, perché ho bisogno del Tuo perdono nel nome di Gesù, io prego, Amen. Anche la preghiera del mattino è finita, ti consiglio di stare altri due minuti, con Dio, alla Sua meravigliosa presenza, così da avere più di Lui, e lasciare a Lui più di te, così che Lui possa vivere in te, e che tu possa essere una persona, che qualunque cosa tocchi, ne faccia un successo, non dimenticare di iscriverti al canale, attivare le notifiche, cliccando sulla campanella, e mettere mi piace, se volete altre preghiere, nel nome di Gesù vi saluto, possa il nostro Signore essere, con voi, in tutte le vostre imprese, e non sentitevi mai soli, lui è con noi, Amen. Ciao. Alla prossima puntata.